Il sogno del Napoli è sempre stato quello di avere un grande giocatore per rinforzare la propria rosa, e il nome che ha attirato maggiormente l'attenzione è quello di Sergei Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo, nato in Spagna e attualmente in forza alla LILAL, è diventato uno degli obiettivi principali della squadra italiana per la prossima finestra di mercato. Milinkovic Savic, che ha già brillato per i maggiori club europei, è noto per le sue doti tecniche e le sue doti di leadership in campo, il Napoli lo vede come un giocatore chiave per raggiungere i propri obiettivi in questa stagione ed è disposto a fare un grande sforzo per realizzare questo acquisto. Il giocatore è molto apprezzato per la sua visione di gioco e la capacità di controllare il centrocampo, qualità che la squadra partenopea cerca disperatamente. L'interesse del Napoli per Milinkovic Savic non è una novità. Da quando ha lasciato l'Europa, il club italiano ha seguito con attenzione le prestazioni del giocatore alla LILAL. L'aspettativa è che, con l'avvicinarsi della prossima finestra di mercato, le trattative avanzino e giungano a buon fine, riportando il centrocampista sulla scena europea. Il trasferimento di Sergei Milinkovic Savic al Napoli non segnerebbe solo il ritorno del giocatore nel calcio europeo, ma rappresenterebbe anche un grande passo per la squadra italiana nella sua ricerca di titoli. I tifosi napoletani attendono con ansia sviluppi positivi, sperando di vedere realizzato il loro sogno.